Il Pescara in questo mese di dicembre si gioca una buona fetta dalla sua credibilità a partire dalla gara in programma al Piola di Vercelli. Tre gare fuori casa, appunto Vercelli-Perugia e poi il 28 a Livorno e le due gare casalinghe con l'Avellino e ancora con il Varese. Si gioca anche la sua credibilità il tecnico Baroni perché dopo la partita con il Lanciano ci sono state ancora nuvole sul suo futuro. Certo la prestazione di Reggio Emilia in Coppa Italia a molti è piaciuta, ad altri ha lasciato ulteriori punti interrogativi. Perché? Perché questa squadra se gioca, se non specula sul risultato, fa la sua bella figura. E allora perché non provarci? È questione di atteggiamento, di mentalità, soprattutto da parte del suo tecnico Baroni. Il mister Biancoazzurro deve avere coraggio, quel coraggio che ha avuto in casa con il Frosinnone ma che è rimasto soltanto un episodio isolato. Questa è una squadra che non deve speculare sul risultato, è una squadra che deve affrontare le varie partite a viso aperto anche perché ha un potenziale offensivo di tutto rispetto. Sì a Bercelli mancherà il bomber Melchiorri ma sicuramente Maniero non lo farà rimpiangere. E anche a centrocampo Baroni deve rivedere le sue scelte. Appel Pire ormai ha deluso, ci sono alternative. Ci sono elementi di esperienza ma ci sono anche tanti giovani. Quei giovani che sono stati anche presentati in Coppa come Vitturini, Selasi, Da Silva. Ma non dimentichiamo anche Torreira. Ecco perché non puntare su questi volti nuovi che potrebbero cambiare anche il volto dell'intera squadra perché il Pescara ha una rosa molto ampia, competitiva. Sì, ripetiamo sempre questo concetto, il Pescara ha una rosa competitiva e il tecnico Baroni deve essere in grado di saperla gestire al meglio.